Ciao, sono Antonio Beccaria e in questo video ti introduco la conoscenza del nostro sistema operativo per ordini KTM. La nostra base operativa è software, quindi utilizziamo il programma Arco. In questo video ti farò vedere come ordinare questi ricambi e come reperire relativi codici ordine tramite il mio sito www.antoniobeccaria.it Quindi entriamo nel sito www.antoniobeccaria.it Clicca sull'immagine ricambi e accessori moto, quella di sinistra, così entriamo nella parte settore moto Cliccando sul logo Gilpi apre una presentazione del servizio, puoi andarla a vedere Ti fornisco queste introduzioni Allora, nota bene, per ordinare il materiale desiderato invia un'email a www.beccaria.antonio.gmail.com Oppure compila il form sottostante Non inoltrare ordini dagli e-commerce dei vari siti perché non sono controllati dal nostro sistema Gli esplosi e le informazioni indicate in questa pagina sono fornite a scopo di favore I prezzi e i codici indicati nei vari siti potrebbero essere differenti dagli ufficiali Prima di inoltrare un ordine è buona cosa ricontrollare sui portali ufficiali i codici In modo da ordinare correttamente il materiale desiderato A questo proposito invia un'email a www.beccaria.antonio.gmail.com Indicando sempre i dati del veicolo Su questa parte, ricambi ed esplosi originali, hai una tabella con dei link Che puoi consultare a titolo di favore E dove ci sono gli esplosi e molte informazioni inerenti a queste marche Per quanto riguarda KTM Ti consiglio di consultare KTM ufficiale Quindi cliccando su questo link Si apre il Spar Parts Finder KTM Che è un portale molto molto simile all'ufficiale originale Così puoi vedere tutti i codici Puoi vedere gli esplosi dei veicoli Adesso ti farò vedere Andiamo tramite ricerca telaio Quindi qui abbiamo il nostro telaio Ti faccio vedere già una cosa Almeno sai come comportarti Copiamo il telaio Entriamo Facciamo ricerca per VIN Quindi io incollo il telaio E faccio cerca Il sistema non trova nulla Perché non trova nulla? Perché ho copiato anche uno spazio vuoto Non ci vogliono spazi vuoti Perché qualche cliente mi chiama E mi dice Antonio ho messo il telaio Ma non mi trova il veicolo Certo che non lo trova Perché ha inserito anche uno spazio vuoto Che il sistema non vuole Quindi inserendo solo il telaio Facendo cerca Il sistema trova il veicolo Che è un 125 Duke White Quindi colore bianco Anno 2017 Versione Europa Che è proprio il nostro veicolo Duke 125 Anno 2017 Colore bianco Benissimo Allora di questo veicolo Dobbiamo ordinare Un coperchio frizione Una guarnizione coperchio frizione E un radiatore completo Allora iniziamo dai coperchi Coperchio frizione Qui siamo sulla tavola Telaio Sulle tavole del telaio Come si evince Ci sono le anteprime Noi dobbiamo andare A passa a motore Perché il coperchio frizione È inerente Alle tavole Del motore Quindi abbiamo Il carter motore E il nostro coperchio frizione Clicchiamo sulla freccia Entriamo all'interno Dell'esploso Si può anche ridurre L'immagine Per vederla meglio Si può ridurre O ingrandire Eventualmente Questa parte qua Appena identificato Il ricambio Che abbiamo bisogno Esempio il numero 1 Che è Il coperchio frizione Numero 1 Prendiamo il codice Che è questo qua Quindi copiamo Il nostro codice E lo inseriamo Nel programma Ok Software Eccolo qua Copiamo Incolliamo E Il coperchio frizione L'abbiamo preso Dobbiamo prendere anche La guarnizione Del coperchio Che è la numero 2 Quindi questo codice qua Copiamo E incolliamo Perfetto E abbiamo preso Anche questa qua Quindi la prima parte Di ordine È completa Adesso prendiamo Il radiatore Un radiatore completo Perfetto Torniamo sugli esplosi Ok Andiamo nella parte Radiatore Quindi scendiamo Sotto Sistema di raffreddamento Entriamo Nella tavola Possiamo anche ridurla Il numero 22 È il radiatore completo Andiamo sul 22 Eccolo qua Quindi copiamo Il codice E lo inseriamo A portale Perfetto Abbiamo preso Anche il radiatore completo E quest'ordine qui È terminato Ora Facciamo una ricerca Senza telaio In questo caso Non abbiamo Il numero di telaio Come facciamo? Dobbiamo prendere Un EXC125 Del 2011 Andiamo A portale Resettiamo La ricerca Quindi io Clicco su KTM Sul simbolo In alto a destra E a zero La ricerca Ok Ora Lavoriamo Tramite Selezionare Modello Ci sono due Possibilità Una un po' più lunga Una più corta Allora Quella più lunga È aprire la tendina E per ogni menu Andare nella parte interessata Quindi strada O off-road Enduro Selezionare Cilindrata O tipologia Quattro tempi O due tempi Prendiamo Per esempio EXC125 Andiamo Sull'anno 2011 E abbiamo Trovato Il nostro Modello Quindi In questo caso Abbiamo fatto Tutta la ricerca Se vogliamo Sveltire Un po' La ricerca Possiamo Anche fare Il modo Più veloce Che è il numero Due Allora Mettiamo qua EXC Spazio 125 Spazio 2011 Il sistema Estrae Tutte le parole Che contengono EXC125 2011 Quindi porta Modello Factory Modello Six Days O modello Normale Il nostro Modello Normale Quindi una volta Selezionato Entriamo Nelle tavole Per cercare I nostri codici Dobbiamo ordinare Un filtro Aria Due parole Forcella E una leva Pedale Cambio Completo Perfetto Andiamo a prendere I codici Allora Andiamo Intanto Su Forcella Che abbiamo Già qua Comodi I paraoli Rimpiccioliamo Un attimo I paraoli Eccolo qua Il 17 Paroglio Forcella Fornisce anche Le misure Qui Indica Paraolio Forcella Quindi è singolo C'è da prendere Due pezzi Se si vuole Una coppia Per fare un veicolo Quindi Incolliamo Il codice Porta Il codice Ordinabile Mettiamo Due Sono già anche Pronta consegna Perfetto I paraoli Li abbiamo Presi Dobbiamo Prendere Adesso Il filtro Aria Ok Quindi andiamo Su tavola Filtro Aria Entriamo All'interno Prendiamo Il numero 15 Che è il filtro Aria Quindi Selezioniamo Il codice E lo Incolliamo Perfetto Anche il filtro Aria Pronta Consegna Infine Dovevamo Prendere Ecco Una Leva Pedale Cambio Completo Perfetto Andiamo Su Vediamo Dove Viene Inserita La Leva Pedale Vediamo Un po' Dove Viene Messa Questa La parte Freno Sarà Su Parte Motore Quindi Andiamo Vedere La parte Motore Dove C'è Il pedale Pedale Dove Viene Messo Vediamo Un po' Eccolo qua Trovato E' il numero 54 L'ho Intravisto Eccolo Eccolo qua 54 54 Leva Cambio Completa Perfetto Allora Selezioniamo Il nostro Codice E Lo inseriamo Portale Benissimo E' già pronta Consegna Anche Questo Abbiamo Completato Anche Quest'ordine Ora Passiamo A un Adventure R 1190 ABS Del 2015 Andiamo Sul portale Possiamo Anche fare Un'altra Cosa Posso Tornare Di qua E cliccare Nuovamente Su KTM In modo Che mi azzera La ricerca Allora Selezionare Il modello Io scrivo ADV Spazio 1190 2015 ABS Ok Il sistema Mi trova Tutti questi Ci sono Anche Versione FR Versione BR Versione AU Allora Per sfoltire La ricerca Io ci scrivo Anche Versione EU Europa Così Il sistema Mi sfoltisce E mi porta A un ADVENTURE R ABS 2015 Versione Europa Lo selezioniamo Entriamo dentro Nelle tavole Dobbiamo Prendere Due pastiglie Freno Anteriori Quindi Coppia Pastiglia Freno Anteriore E coppia Pastiglia Freno Posteriore Perfetto Andiamo Nella tavola Pinza Freno Anteriore Eccola Qua Il numero Andiamo Vedere Delle pastiglie È L'otto Ok Dice Coppia pastiglie Per coppia pastiglie Si intende per fare Una pinza Essendo che monta Due pinze C'è da prendere Due coppie Quindi Inseriamo Il codice E prendiamo Quantità Due Perfetto Andiamo Adesso A prendere La coppia Pastiglie Posteriore Quindi Pinza Freno Posteriore Numero Due Coppia Pastiglie Eccola Qua Selezioniamo Il codice Lo inseriamo Perfetto Sono anche già Pronta Consegna Prendiamo Queste qua Che sono quelle Pronta Consegna Ok Quindi Abbiamo fatto Anche quest'ordine qua Ora Vediamo L'ordine Di un accessorio Un parabrezza Maggiorato Fumè Andiamo Sempre sul sito Scendiamo sotto Nella parte Accessori Originali Qui ci sono Tutti gli accessori Di queste case Clicchiamo Su KTM E Apriamo Il sito KTM Ufficiale Power Parts Per vedere Gli accessori Sulla sinistra Hai un anteprima Di tutti gli accessori Questi qua Sono proprio Tutti accessori Generici Quindi per esempio Carbonio Offrodo Street Cliccando All'interno Il sistema Fa vedere Tutti gli articoli Disponibili Partendo Da alcuni Articoli E più Si visualizza E più Il sistema Porta Diversi articoli Si può anche Inserire In ordine Di popolarità O in ordine Di nome Ecco Quindi Ci sono vari Filtri In questo caso Noi dobbiamo Prendere un accessorio Per l'Adventure R 1190 ABS 2015 Un parabrezza Maggiorato Fumè Allora Cosa facciamo Possiamo mettere L'anno Qui c'è anche Una ricerca Per tipologia Di articolo Io vado Direttamente Su Modello Per esempio Abbiamo detto Che il nostro È un 1190 Adventure R Versione Europa Il sistema Estrae Tutti gli accessori Relativi A questo Modello Quindi Sulla parte Sinistra Ci sono le Anteprime Esempio Questo Modello Può montare Due codici Di pedane Può montare Cinque Parti speciali Di ruote Quindi Vari Accessori O eventualmente Cliccando Street Indica anche Le ruote Quello che ci interessa A noi È la parte Dei cupolini O parabrezza Infatti Cliccando Sulla parte Cupolini Il sistema Estrae Due tipologie Di parabrezza Uno Trasparente E uno Alto Maggiorato Fumè Che è quello Che ci interessa A noi Allora Noi Clicchiamo Sull'immagine Entriamo A vedere Maggiori Informazioni Ci sono Tutti i vari Dati Del parabrezza Cliccando Sull'immagine Fa anche Vedere Un'anteprima Un po' Più Ingrandita Quello Che ci interessa A noi È il codice Il riferimento Quindi Copiamo Il nostro Codice E lo inseriamo In ordine Eccoci qua Lo inseriamo Il sistema Indica anche Le minuterie Dice che Ha 4 boccole 4 viti Per il fissaggio Perfetto E andiamo A inserirlo In ordine Ok Abbiamo Completato Il nostro Ordine Tutto il materiale Disponibile In pronta consegna Se lo ordini Entro l'ore 12 Possiamo Spedire subito E la consegna Stimata Il giorno Successivo Per gli articoli Da ordinare Appositamente La tempistica Media Sono dai 5 Ai 7 Giorni Lavorativi Bene Siamo giunti Al termine Di questo video In cui ti ho indicato Il nostro sistema operativo Per ordini KTM Se il video Ti è piaciuto E ti è stato utile Clicca mi piace E condividilo Con i tuoi colleghi Del settore Per qualsiasi Informazione E ordine Mi puoi contattare Al mio numero Diretto 3402561690 Oppure meglio Mi puoi inviare Un'email All'indirizzo Beccaria.antonio Chiocciolagmail.com Ti ringrazio molto Per avere condiviso Con me Questi minuti Del tuo tempo prezioso E ci vediamo E ci sentiamo presto Un caro saluto D'antonio Beccaria